E benvenuti amici! Un saluto giusto 99! Siamo qua con un nuovo video, siamo tornati qui sulla nostra creation game di FIFA in questo caso FIFA 21 ma come vi ricordo ormai da tempo le nostre creazioni possono essere replicate in maniera praticamente uguale sia su FIFA 20 sia su FIFA 22 quindi direi che sono video di totale attualità vi ricordo anche di lasciare un bel like di commentare, condividere, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per me siete tutti fondamentali così come i vostri consigli oggi come avete letto dall'introduzione ho deciso di portarvi dopo tantissime richieste il giovane Luca Morel il giovane attaccante che quest'anno gioca in serie C che è stato però acquistato nei giorni scorsi dal Sassuolo ora gioca in prestito al Catania ma è passato al Sassuolo negli ultimi giorni di mercato e quindi lo mettiamo già al Sassuolo visto che comunque la serie C non c'è bando alle cianze però ragazzi passiamo subito alla creazione alla creation game di Luca Moro nome Luca, cognome Moro il nome sulla divisa Moro ho messo numero 20 ma ovviamente questo può essere cambiato come volete voi italiano Sassuolo è nato il 25 gennaio del 2001 fisico abbiamo 189 cm circa per 74 kg quindi una bella punta di spessore profilo tecnico attaccante attaccante piede preferito destro per quanto riguarda gli attributi invece sono stato un po' basso siccome è un ragazzo che ancora non ha mai giocato in serie A ha giocato solo tra serie B e serie C quindi ha tutto il tempo per crescere senza alcuna fretta cross 40, 65, 60, 65, 53 difesa 15 e 20 abilità 60, 45, 35, 55, 65 potenza 65, 60, 60, 65, 55 movimento 60, 70, 50, 55, 65 e infine mentalità 45, 30, 65, 55 e 70 questo per quanto riguarda gli attributi di Luca Moro passiamo subito alla creazione della testa vi dico subito che non è facile non è stato facile perché ha un volto molto particolare anche dei capelli un po' particolari che su FIFA non sono presenti cercherò di fare il più possibile vicino alla realtà però ragazzi purtroppo gli strumenti sono questi prendiamo il giocatore così com'è poi ovviamente accetto le critiche accetto i consigli accetto qualsiasi cosa io oggi ve lo porto così poi dopo siete liberi di modificarlo volto utilizziamo questo volto qui tono e carnagione prendiamo l'ultimo della slide sopracciglia selezioniamo il secondo modello che andiamo a trasformare in questo modo passiamo adesso agli occhi non semplice assolutamente non semplice trovare un modello più simile possibile alla realtà e li trasformiamo in questo modo passiamo adesso al naso selezioniamo questo modello qui partendo dal fondo che andiamo a trasformare in questo modo passiamo alla bocca selezioniamo questo modello qui che è il penultimo e lo andiamo a trasformare in questo modo passiamo adesso a guance mascella scegliamo il primo modello e lo andiamo a trasformare in questo modo passiamo al mento selezioniamo questo modello qua e lo andiamo a trasformare in questo modo passiamo adesso alle orecchie selezioniamo questo modello qui e lo andiamo a trasformare in questo modo andiamo ai capelli adesso ragazzi inizia la parte molto complicata perché purtroppo non è stato assolutamente facile io ho scelto per questo modello qui che è un po' quello che forse si avvicina di più al suo taglio e poi come colore ho messo quello un po' più castano non troppo scuro quindi ovviamente scegliete voi quello che più preferite e poi ovviamente abbiamo la Barbo che è sbarbato quindi ragazzi questo per quanto riguarda la creazione la creation game di Luca Moro che in tanti mi avete chiesto già da qualche mese a questa parte vi chiedo scusa per il ritardo però sono riuscito a portarmelo in questo momento c'è una programmazione comunque molto importante di giocatori da portare su FIFA nelle prossime settimane quindi mi raccomando restate sintonizzati continuate a monitorare i progressi le aggiunte nuovi giocatori e ovviamente spero di aiutarvi ad arricchire sempre più il vostro pacchetto giocatore su FIFA soprattutto nel caso in cui vogliate fare delle carriere e sbizzarirvi con le rose quanto più possibili uguali alla realtà dal raggiunto 99 è tutto ragazzi qui con me Luca Moro ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi